Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguri, appena morto in un tremendo incidente. In questo video parliamo di un sinistro avvenuto ancora una volta sulle due ruote. In questo video parliamo di un fatto che ha sconvolto un'intera comunità e uno dei posti più belli d'Italia. Stiamo parlando di Finale Ligure in provincia di Savona. Questa mattina e sulla via Aurelia si è verificato un drammatico sinistro che ha coinvolto due moto, due auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato un motociclista, un turista di 59 anni sul posto. Sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Facciamole più sentite condoglianze alla famiglia del motociclista che ha perso la vita a 59 anni. Che possa riposare in pace, amici di Youtube. Io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video. Seguitemi anche sul primo canale di Marco Liguri, il canale principale. Seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguri. Psicologia e crescita personale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.